Io sono Stefania Innocenti, ho scelto il mio negozio, il discontificio Innocenti è della mia famiglia, da tantissimi anni, da vero mio donno, più o meno nel 1940. Diciamo che il cuore di questo discontificio è questo mondo, che è lungo, più o meno 15 metri, la macchina è del 1960 ed è una macchina perfetta. La cosa si è è brutta, perché quando ha invitato nonno erano un decimo diversi e faceva meno varietà di rispotti, quantità, e dopo la guerra sono sempre loro, mamma e papà, e hanno modificato la produzione, aumentando la varietà di rispotti, aggiungendo decisamente anche ingredienti nuovi, cose più particolari. E allora la mia famiglia vive di questo, e quindi, questa è un po' casa.